Siamo pronti, incontriamo un avversario difficile, uno dei più forti del campionato, però siamo consapevoli della nostra forza e siamo carichi. Aspettiamo un Pama arrabbiato che vuole vincere perché ancora può andare diretto, quindi ci dobbiamo far trovare pronti, sarà una partita difficile però ci siamo. È stato bravo il mister a gestire il gruppo perché penso che ha giocato tutti, la forza del Bari di quest'anno è il gruppo e si vede, non è il singolo, è il gruppo, chi entra, fa bene, chi ha giocato, ha fatto bene, il mister è stato bravo in questo, a gestire il gruppo e lanciare nel momento giusto ogni giocatore. Ora sto bene, io sono arrivato a Bari che venivo da un infortunio pesante, non avevo partite nelle gambe, il mister è stato bravo a gestire questa situazione, mi ha dato spazio piano piano, è normale quando uno gioca prendi continuità, ritmo partita, dobbiamo solo crescere con il ritmo partita, è difficile entrare in forma se non giochi. Quindi è stato bravo il mister a gestire questa cosa insieme allo staff e sono contento di quello che ho fatto finora. Tende al mister a trovare la formazione giusta, io gioco sia a tre che a quattro, per me è indifferente, l'importante è giocare, penso che questo deciderà il mister, che formazione mettere in campo. Ci ha caricato un po' il mister, che non ci dobbiamo accontentare, che dobbiamo spingere, penso che non ci deve dire lui, questo deve partire da noi, siamo nel rush finale, dobbiamo spingere, mancano due partite per il campionato, due partite importantissime e dobbiamo spingere. Noi pensiamo partita dopo partita, ora c'è il PAM, c'è una partita difficilissima, è inutile che sto qua a dire che dobbiamo pensare a vincere, andare in Serie A, di qua, di là, dobbiamo pensare al PAM. Voi se vinciamo, se pareggiamo, se perdiamo, dobbiamo vedere che strada faremo, però penso che è importante pensare partita dopo partita che è meglio così. C'è un bel spogliatoio qua, stiamo tutti bene, è difficile stare 30 persone in uno spogliatoio e stare bene, invece qua stiamo tutti bene, siamo tutti contenti e quindi l'importante è quello, la squadra e il gruppo, il gruppo è sano, quindi ha una forza in più. Non lo so chi è favorito, io sinceramente penso solo ad allenarmi e giocare, io non sto a guardare la classifica, non so nemmeno com'è la classifica, so che siamo dentro il play-off, io penso solo ad allenarmi e giocare, voi fare queste idee, perdermi mentalmente queste cose, non mi piace, quindi a fine campionato vedrò quale sarà il versare, penso che non abbiamo niente da invitare a nessuno, dobbiamo continuare sulla nostra strada. È un giocatore forte come gli altri, il mister è stato bravo a gestire la situazione perché in attacco sono tanti, c'è Nene, Kozak, Florio Flores, Andrada, le punte Cissé, le punte sono tante e quindi è stato bravo il mister a gestire questa cosa. Lui è entrato bene, ha giocato benissimo, ha fatto un gran gol, gli ho fatto pure i complimenti, però sono anche gli altri, quindi è un problema del mister questo, è un bel problema perché comunque ha veramente cinque attaccanti o sei, non lo so quanti sono, sono tutti fortissimi. Vincere fa sempre bene, da morale, da entusiasmo, però non penso che sia quella partita fondamentale per il nostro campionato, penso che sia una partita difficilissima che dobbiamo affrontare da noi massimo, dobbiamo andare a fare una bella partita, giocarcela, poi vedremo come andrà. Sì, penso che Bari sia la piazza ideale, io sto benissimo a Bari, sono molto contento di quello che ho fatto finora, mi trovo in un gruppo fortissimo, sto bene qua, ora penso a finire bene la stagione qua e poi vedremo cosa succederà, però comunque mi piacerebbe molto continuare il percorso qua al Bari.